speziati al punto giusto come è stato dare la voce a Po è stato bellissimo perché non mi aspettavo questo kung fu panda 4 pensavo che fosse finita la mia diciamo esperienza con Po pace interiore bambù per favore bambù al vapore bambù in pace con soia e sesso mi piace è cambiato rispetto agli altri agli altri tre film perché è cresciuto sta indietro ora mi gonfio di botte no 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 aspettate volete dire che non sarò più il guerriero dragone esatto e allora cosa sarò una volta scelto il successore salirai al livello più alto di tutto il kung fu guida spirituale della valle della pace wow non so cosa vuol dire